Vorrei presentarvi e ringraziare in anticipo i partecipanti a questa tavola rotonda. Nell'ordine Anna Maria Rizzoli, Andy Luotto, Calisto Kosulic, Patrizia Carrano, Alvaro Vitali, Marino Girolami, Renato Nicolini, Marco Giusti, Michela Miti, Franco Lechner in arte bombolo e Mario Merola. Il tema non c'è, parliamo di quello che ci pare, però potremmo cominciare con il tema spesso dibattuto di questa differenza molto sottile da definire fra il cinema d'arte, il cinema d'autore e un cinema più commerciale o chiamatelo come volete un cinema altro, un cinema di serie diversa ma il campionato su quali regole si svolge insomma. Oh, io mi sono subito scordato di qualcuno, ho dimenticato che sposta la macchina. Abbiamo con noi Enrico Ghezzi, col quale mi scuso della dimenticanza, non sarà l'ultima. Dunque, volevo chiedere a Calisto Kosulic, critico cinematografico di Paese Sera, il seguente. Cioè, dal tempo dei film delle torte in faccia, fino a quelli con Totò, con Macario, spesso parte della critica ha espresso giudizi a volte pesanti, a volte severi, che la storia poi qualche volta ha smentito anche in maniera clamorosa. Io credo che intanto bisogna dire una cosa, almeno questa è la mia convinzione, che se dobbiamo dividere il cinema fra pratiche basse e pratiche alte, proprio per la sua struttura, il cinema ha bisogno delle une e delle altre. Cioè, io credo che non esisterebbero pratiche alte se mancassero le pratiche basse. Io mi domando, per esempio, ma Tognazzi, che poi è diventato quello che è diventato, lo sarebbe stato, sarebbe diventato quello che è diventato se non avesse fatto una trentina, una quarantina di film, di cosiddette pratiche basse durante gli anni 50. Vorrei dare dunque la parola a Bombolo. Bombolo, Kosulic ha adoperato questa espressione di pratica, cinema di pratica alta, di pratica bassa, oppure si è detto cinema categoria A, B, C. A volte la nomenclatura è anche più pesante, si è parlato spesso di cinema della spazzatura. Volevo chiederti, cioè, se ritieni di appartenere al cinema spazzatura e se lo consideri un vanto, una vergogna, oppure invece un qualche altra... Io spazzatura, io cinema spazzatura. No, ma non ti arrabbiare con me, io sono neutrale. Io ancora non ho capito niente. Ringraziano a Dio, ancora film di spazzatura non l'ho fatta. Certo, fra l'altro disegni bene, mostriamo un'opera estemporanea di Bombolo. Certo, dove è la camera? Quella? Ah, va bene, ecco qua. Ebbè che fa vedere questo? Ebbè può essere una nuova carriera, visto mai? Michela Miti, da quattro anni in cinema, ha fatto un cinema di vario genere. Io direi di ricordare forse proprio il primo film che mi ha dato successo è stato proprio Pierino contro tutti. Pierino contro tutti. Io mi sono trovata di fronte subito a delle critiche spaventose, se vogliamo, nel senso, ecco, la solita bella, la solita ragazza che magari si fa vedere, si mostra, però chissà, se sa parlare addirittura. Si è mostrata molto? Si vedeva una scena dove mi si vedeva un po' il seno, ma leggermente di profilo. Io per esempio, quando arriverò a fare appunto un film un po' così, io vorrei fare invece un film in cui mi devo spogliare, ma purché non ci sia nessuna ragione nel testo, insomma. Io volevo riprendere invece il discorso che ha fatto prima Bombolo, dicendo dei film di spazzatura, che secondo me allora è tutta una spazzatura, giustamente come ha detto Bombolo, perché la gente si diverte con questo genere di film, e oggi io non voglio definire film spazzatura, perché il cinema è spettacolo, per cui tu dai uno spettacolo che piace al pubblico, lo accettano. Non mi associo invece con questi critici che ci hanno fatto un bombardamento continuo. Pierino non poteva esprimersi parlando come un professore, era un personaggio così semplice, quindi era giusto che si esprimesse in quel modo. La parola a Marino Girolami, tu quanti film hai fatto Marino? 87. 87, e ne sei contento di questo numero? Sì. Io ti pregavo prima di dirmi quello che tu ritieni il più brutto che hai fatto, poi ti dico il mio. Il più brutto nel senso che non ha avuto successo, niente. No, no, proprio brutto. Brutto 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 brutto? Sì, nessuno. Ci sono alcune perle anche qui che ho fatto anch'io, Vigile e Vigilesse, I carabimatti, e il peggiore di tutti, La maestra di sci, con la grande Carmen Russo. Mi vergogno di averli fatti, comunque avevo bisogno di soldi e... Quasi tutti questi film, specialmente quelli tuoi, Alvaro, li ho doppiati tutti in inglese. Devo dire che contemporaneamente ero anche la voce inglese di Giancarlo Giannini, di Alain Delon, di Pozzetto, e c'è un episodio qui che vorrei un attimo raccontare. Doppiavo due film simultaneamente, uno dei film tuoi e un altro di Giancarlo Giannini, un film delizioso, molto bello. Il compratore l'ha guardato e ha detto no, 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 voglio comprare, voglio il film dove c'è quello lì che dà fuoco alla scorreggia. Delle scorreggie pirotecniche, mai eguagliate. Ma mi sembra che qui, come un detto antico napoletano, lo sta tutto a nasap e un coppio di pire stesso vuoi. Perché bisogna battere, bisogna continuare, non bisogna smettere. Però non sono dei film intelligenti. Non li conserveresti per la storia. No, perché c'è questa comicità spicciola, gratuita, puerile, che forse fa ridere la massa. Scusa, senza malizia, ma il titolo è troppo bello, mi fai citare almeno, me l'hai detto tu prima, Le vacanze del cactus. Che è un film che è costato pochissimo ed ha incassato, credo, due miliardi e mezzo. Ah, ridanche te. Comunque sono film che sono convinta che non gratificano nessuno, né il regista che lo fa, né noi attori che ci lavoriamo. Gratificano molto le tasche del produttore che investe pochi soldi e guadagna moltissimo. E' quelli che lo vanno vedere. Perché però, non voglio togliere niente a questi registi, togliere niente a questi registi che anzi sono più bravi di tanti altri considerati così di serie A, che io vorrei vedere a girare in tre settimane quello che riescono a girare loro. Il guaio è che il cinema così, il cinema scorreggione, era tutto sommato vitale, era anche interessante. Vuoi citare a tuo gusto il peggiore di questi film più, virgolette, nobili, quelli che ti danno più fastidio? I film nobili che mi danno noia sono quelli di Pasquale Festa Campanile, di Castellano e Pipolo, sono in parte, ahimè, anche quelli di Monnicelli e Risi, ultimi, perché non li trovo né divertenti né d'arte. Sono un misto di compromessi e di, ecco, facciamo qualche cosa comunque. L'acqua che mi ha colpito un po', che sembra che uno si vergogni di far ridere, si vergogni del corpo e si vergogni di far piacere. Assolutamente. No, questo, ho avuto un po' questa impressione. Io non mi vergogno del mio corpo, assolutamente, anzi ne vado fiera. Uno dei difetti del cinema comico di oggi è che si è perso il legame con l'attualità, cioè, che so, l'infrazione scatologica, fa ridere quando è collegata anche a qualche cosa di attuale, insomma. Invece a questi film sembra che il corpo sia isolato, la risata sia completamente isolata da quella che era politica. Ringraziandoti del tuo intervento, tu per un viaggio alle Barbados, chi sceglieresti? La Miti o Bette Davis? Meglio Bette Davis. Bombolo è pragmatico. Se scegliessi Bette Davis sarebbe molto romantico, un fantasma, un amore. Sì, ma insomma, chi sceglieresti? Sì, ecco, vediamo le conclusioni. Dovendo scegliere tra queste due persone e con la Miti. Anche a te una domandina facile, facile, rapida, rapida. Se fossi ministro dello spettacolo, il primo provvedimento che prenderesti? 150.000 lire per il biglietto per andare a vedere i film americani, esteri. E 5.000 lire per vedere i film italiani. Giovanna d'Arco, Anna Franche e i misteri della Cina. Quale fai? Giovanna d'Arco? Il sogno nel cassetto. Qual è il film che vuoi realizzare? Tutti. Vorrei che tu mi dicessi se hai in tutta la tua lunga e qualificatissima carriera di critico qualche cosa in cui credi di avere sbagliato. Ma io credo di avere... Intanto credo che sia tutto relativo. Perché i film non esistono di per se stessi ma come li guardi. E tu li guardi diversamente a seconda dell'epoca. Ti faccio un caso. Vedo un film nazista del 1936 che si chiamava Der Herscher, Ingratitudine. Se lo vedi oggi, questo film nazista, trasformato in film nazista, ti sembra un film da italiani. Non perché italiani siano nazisti, perché oggi sarebbe un tipico film antinazista. Qui c'è Bombolo che sta completando un miglioramento della Cappella Sistina. Questa è una casa che ho sognato sempre nella vita ancora in cimorio. Ecco qui, facciamo un breve gioco della torre. Fra Marisa Allasio e Rossana Podestà, per parlare del cinema di quegli anni là, chi butti giù dalla torre? Con dispiacere la Podestà. La Podestà. E fra Marisa Allasio, vediamo quanto regge, Marina Allasio e Anna Maria Ferrero. Che trappola! Ebbè, il gioco della torre... E poi, scusa, nella torre sono in tre. No, due, due, due. Uno o l'altro. Senza spiegazioni, eh, poi. Perché il gioco della torre non deve avere spiegazioni. Butto giù la Ferrero. Dimmi tutto. Hai visto la bottiglia di whisky? No, è sparita proprio. Ah, è qua. Renato, tu prima ci stavi cominciando a raccontare un altro soggetto. Vuoi raccontare brevemente? Questo è lungo, però. Si è la morte a Pamezia. Omaggio a Visconti. Omaggio a Visconti. Si, la storia è... Morto e a Pamezia. È interpretato da Franco Franchi e Ciccio Ingressia. Franco Franchi fa la parte di Tazio e Ciccio Ingressia, diciamo, Aschenbach. Insegna tedesco a Pamezia, supplente, c'è una... Però lui non conosce il tedesco. E durante tutti quanti i viaggi che fa la mattina col treno per andare a insegnare a Pamezia, col vocabolario tedesco, è attratto da questo giovane muratore, Franco Franchi, muscoloso, vitale. E così, improvvisamente, si accorge che è innamorato di Franco Franchi. C'è una scena a Campo dei Fiori, al banco del Cozzicaro. Si mangiano una serie di cozze. Poi l'unico piacere di Ingressia è quello di sentire il concerto del lunedì all'Accademia di Santa Cecilia. Mentre ascolta la sinfonia di Mahler, che abbiamo sentito in Morte a Venezia di Visconti, improvvisamente comincia a sentire un tremendo mal di pancia. Ci sono dieci minuti di camera fissa su Ciccio Ingressia. E ritorniamo ai suoni... Il giorno dopo lui scopre che il cantiere a Pamezia è finito, che Franco Franchi è andato via. E durante il ricevimento d'addio della scuola, in mezzo a tutti quanti quei bicchieri gialli, verdi, che abbiamo sempre ammirato in Morte a Venezia, sente di nuovo... Un accesso del male terribile. Si chiude nel bagno e... Al suono di Mahler... Morte.